Se la barca si rompe e ti trascina verso il sud, tu che cosa fai? Andresti nella Corea del Sud? Questa barca è tutto quello che possiedo, signor. Aiuto! Se passa la linea, devi spararti. Sei finito nelle nostre zone di sicurezza. Che cosa stavi cercando? Sono arrivato qui perché si è rotto il motore della barca. Non capisco perché mi trattate così. Voglio che scrivi ogni singola cosa che hai fatto da quando sei venuto al mondo fino ad oggi. Perché mi fate questo? Pensate che sia una spia? Decido io se mandarti lì o no. Se non mi ascolti non uscirò in mano. Tutto quello che mi interessa sono mia figlia e mia moglie. Che ne dici se andiamo a fare un giro per Seul? Tu vuoi che finisca per mettermi nei guai? Più vedrò, più avrò problemi, non lo capisci? Avanti, apri gli occhi. Perché morire sotto il regime se qui puoi spassartela? Io non ho paura della Corea del Nord. Voglio tornare a casa. Forse con la rete ho catturato troppi pesci nel corso della mia vita. Adesso sono io a essere rimasto intrappolato. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!